Se le scuole non le partono, questo paese è un paese finito. Come Sofì, con la rosa bianca in mano, segna la storia di una generazione. Vive 21 anni a Sofì, 21 anni, molti di voi hanno 21 anni. Pensate a cosa vuol dire morire a 21 anni per l'idea. Ci vediamo domani mattina, satterniti per tutti i giorni, alle 10 e alle 10, grazie a tutti voi.